Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, andiamo avanti con Life is Stranger Mustard, abbiamo ritrovato la nostra amica Claw, abbiamo conosciuto il suo paterigno e sono curiosa di vedere tutto ciò che avverrà. Spero che la serie vi piaccia, ha portato molti nuovi iscritti, ho visto, se così lasciate tanti like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti. Noi ci vediamo tra pochissimo in partita e io vi auguro buona visione! Eccoci qui al faro! Come mai siamo al faro? Mi fa pensare perché appunto era al faro della primissima scena. Sembra sia stato un gioco lunghissimo ma secondo me è perché riappoggiato il tempo tantissime volte. In ogni modo abbiamo ritrovato la nostra amica Claw che bel cerbiato. E vabbè a parte ciò, dunque, dunque, dunque... Sì, mi fa un po' paura in effetti questo punto. Ok, ci possiamo muovere noi benissimo. Cartello. Ok, d'accordo allora. Non sto a leggere troppa roba perché per l'appunto ho visto Warren. Warren. Cosa dice Warren? Eh, più scherzo... Oddio. Eh, ti devo fare un favore, grazie per oggi. Eh, devi ancora parlarmi del tuo segreto. Geck. Sarà un ok tipo? Va bene. Ape. Ma ci fa vedere qualcosa, eccolo? Io sono curiosa, ragazzi. Lo so che ci metto magari una vita. Eh, infatti, siamo ancora il primo capitolo, eh. Sappiatelo. Siamo ancora il primo capitolo. Non so quanto, quanto, quanti episodi durerà. Però, ovviamente, se li faccio lunghi, una mezz'oretta e forse anche un po' di più, a volte... Dunque, andiamocene dalla nostra amica Chloe. Non corro perché ho paura di cascare giù. Parla. Sei di buon umore. Esatto. E credo tu abbia fatto bene. Ha dato di matto con Kate. Avrei dovuto fargli una foto. Ha dato di matto con Kate. Tutto. Beh, sì. È la nostra migliore amica di infanzia, quindi. Tanto, erano delle foto. Qualcine... C'era qualche studenti. Questo è stato troppo legato di lavoro. È ancora credo che sia stato in guerra o qualcosa. È un fenomeno che totali fettigli. Noi, non c'è una spi camisola in casa. C'è un po' di nato. Cioè, non c'è un po' di nato. Chloé, la tua casa è sotto la nostra. C'è un po' di chiesa? C'è un po' di nato? C'è un monitor in il garage. Cioè, è così parano. Perché non lo devi dire a nessuno, cioè Qual è il segreto di Nathan? E abbiamo visto quanti debiti ha E Nathan? Sono curiosa di sapere di Nathan C'è una propria investigatrice Che casino È ancora pericoloso Polizia cosa la stiamo a chiamare tanto? Ehm Ehm Certo che è un gran bel panorama, eh Averlo dietro casa non sarebbe male Cosa sta succedendo? Siamo di nuovo qui nell'incubo Siamo di nuovo nell'incubo Ciao Ho andiamo a morire E riavvolgiamo. Non vogliamo, riavvolgiamo ancora. Sì, però, dove posso andare io? Torri, torri, morri di nuovo, guardi qui. Ah, ma quindi dobbiamo seguire il cervo, il ciappiatto, il cervo. Non c'è, non c'è No c'è. Sì, non non hanno fatto niente. Gio. Sì. Un attimo Ok No, vogliamo Aiuto, aiuto, aiuto Sì, ok, la guarda, ma tu Mi devo passare, scusate Vornare Lai giù Oktober 11? Is this Friday? That's only four days away Oh no That tomato is headed straight for the town Chloe, you're here I'm back Oh my lord, this is real, it's real Oh man, this sucks Max, what's going on? You totally blacked out I didn't black out I had another vision The town is going to get wiped out by a tornado Sarasolo contenta, Chloe It's about 5 tornadoes every 20 years You just zoned No, no, I saw it I could actually feel the electricity in the air Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy But there's something else I have to tell you Something hardcore Talk to me, Max I had this same vision earlier in class When I came out of it I discovered I could reverse time Like I said, not crazy But high, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure I saw you get shot, Chloe I saw you actually die I was able to go back and hit the fire alarm Okay, I see you're a geek now with a great imagination But this is an anime or a video game People don't have those powers, Max I don't know what I have, but I have it And I'm scared shitless You need to get high It's been a hell insane fucking day Come risolvere tutti i problemi What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees Fantastico Here, guys, it's febbraio Inizio febbraio E appunto ci sono anche 15 gradi volendo Quindi non ci vedo nulla di assurdo Oh, il paranoico Questa qui deve essere la mamma di Chloe Corre Povero, con un occhio nero per noi Per noi, per Max, insomma No, povera lei Sopportabile Victoria Per non dire altro, ripeto Il preside che affoga i problemi universitari e l'alcol Jefferson Il prof Nathan Non l'ho capita alla fine così Ok Hai denunciato Nathan Hai preso in giro Victoria Sei intervenuta per aiutare Kate Ah no, scusa Scusa, scusate Hai denunciato Nathan 59% Hai preso in giro Victoria 19% Sono cattiva Sei intervenuta per aiutare Kate 90% Ok Ti sei No Sei uscita allo scoperto per intervenire 59% Ok Quindi Ehm Aggiornata lo starebbe a dire B Io vado con B Continuo Episodio 2 Il nuovo episodio inizierà 5 4 3 2 1 2 2 3 4 3 3 4 5 5 7 7 10 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, abbiamo la borsetta, quindi automaticamente possiamo andare alle ducce. Mamma mia. Tutte le sue schiavette. Oh, adesso concedetemi, parliamo un attimo con qualche amichetto di più, se riusciamo. Avverti. Lei è quella da avvertire. Palla da rugby, mi sembra che fosse, nella puntata, in una delle puntate precedenti appunto, qui invece questa azione avrà delle conseguenze, qui invece appunto, cosa fa sto qua? Ehm, carta igienica, insomma, lei è quella che va avvertita. Quindi possiamo parlarci con noi. Oh, ciao, cara. Credevo di sposarlo. Credevo di sposarlo. Giustamente. Perché no? Perché no? Esatto. Pillole contraccettive. Wow, guardate che trucchi. Parla una che non si trucca mai. I roller. I rollerblades. Ah, ho voluto essere una derby girl, ma ho quasi ho rompito i miei piedi solo per metterli. Lei si è quasi dato un piede solo per... solo provando a indossarli. Wow. Pallina di carta? No, volevo leggerla. Danna, le lettere non sono il mio forte, ma ho voluto scriverti. Forse così non mi odierai per sempre. So che mi comporto da duro quando sono con gli altri, ma con te non ho avuto mai da fingere. Non ho mai dovuto fingere. Non ti merito. Hai visto come mi sono tirato indietro. Fammi sapere se hai bisogno di soldi. Baci Logan. Logan è il suo tipo? Non mi ricordo. Vabbè, andiamo a farci... No, volevo vedere chi altro c'era qui. Ok, Juliet. Parliamo con Juliet. Sono tutte perfette, come se non è carino. Perché? Non ho capito cosa mi ha chiesto. Sei sicura? Sei sicura? Mi pensavo che sarei piaciuta. Non a te. La parte di me era quasi disapointa perché ho sviluppato così molta rage. Sì, è felice di vedere che sei in attenzione. Hai un buon heart, Max. E non ne vedo più di Kate's video. O passate. È il spirito. Grazie, Juliet. Sì. Parliamo con te dopo. Ok, allora. Dicevo solo che sono già tutte pronte, carine e perfette. E noi abbiamo una faccia da zombie. Hai visto la neve? Non lo farò. Tutti se la prendono con Warren o no? Questa qui è la stanza di Taylor. Questa qua è di stella. Ah, adesso ci fa bussare a tutte le porte. Ah, è vero sì. Mi ho sbagliato. Volevo solo muovermi un attimo più in fretta per vedere di chi fossero queste stanze. Questa qui è la stanza di Kate. Vediamo giusto. Victoria, che cosa si dice se bussiamo? Va bene, ti lascio in pace. Che casino fanno in bagno? E come si fa ad andare a farla addosso, scusate? No, aspettate. Ah no, è di qua il bagno. Che scema. Cioè, le dozze sono di qua. Scalze. Che pigiamini da bimbe. Che pigiamini. Ok, usa No, che non abbiano neanche delle ciabatte o eh, non mi piace proprio in sti bagni ridotti così Ok, guarda il video Looks like it. Preach it, sister. Huh. Ti faccio vedere io, ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io, ti faccio vedere io. Hmm. Neanche ci siamo asciugate, vabbè, lasciamo stare. Dettagli, dettagli, tutti dettagli. No, ho sbagliato. Scusate, mi viene automatico da riavvolgere il tempo. Allora, guarda. Caffè che te ci vuole. Voglio vedere il messaggio. È questo il link al video di Kate? Caffè, Victoria è davvero bella. Ancela. 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 Ok, va bene, andiamo. Ancela. 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 Ancela.